Picciotti di Sicilia tutto tondo tagliate chi c'è cà Amore se ti dico mango, avocado, finger lime, tu a che cosa pensi? Allora io penso ai tropici ma in realtà Picciotti siamo nella nostra splendida Sicilia Siamo a Balestrate, nell'azienda agricola il filo tropicale Ho detto tutto io perché tu ci devi far vedere che cosa si produce con questi frutti che sono esotici ma sono in realtà siciliani Nella stagia tutti senza parola amore Quindi uno, due, tre Ammonia a birri come si trasforma questo frutto magnifico Amore picciotti Allora oggi fa caldissimo siamo vero ai tropici Infatti ci siamo accettati con questo bello ombrellone amore vedi? Sì Per girare tutta questa piantagione di mango Ah sono 4 ettari 4 ettari Guarda qua che piantone Dai c'è qua Faccio vedere una pianta d'avocado guarda che tu l'hai visto mai nella tua vita Ma che bella Guarda che c'è qua e poi guarda che frutti guarda avvicinate amore Meravigliosi Chiscio è avvocato bio come tutti i prodotti che ci sono qui amore No Tu mi fai l'insalata con un avvocato non sapevo manco non arriva neanche come coltevato Hai ragione Perdono Ora la vedi quella ragazzana? Sì Ora la chiamiamo Chiamiamola Vieni qua Katia Ciao Katia Scusami se ti abbiamo disturbato Katia Buongiorno picciotti Volevamo sapere questi avvocato che avete qua che particolarità hanno? Abbiamo tre diverse varietà Ah vi siamo le già chi sa prima non sono uno ma c'è Sono fondamentali per l'impollinazione Abbiamo gas Buccia ruvida Sì Bacon e fuete Hai capito amore? C'è una tipologia non si fa niente Ah segreti In questa azienda qua balestrata troverete questo agrume che ha origini australiane ed è molto pregiato Bravo amore perché è il caviale dei vegani Allora si usa nelle cucine degli chef astellati e ce l'abbiamo qua Dorme e del finger lime Mi ma qua dove siamo amore dove stiamo entrando? La foresta amore Nella foresta Guarda che c'è qua nel tutto senti che si sta belli freschi Sì freschissimi Perché siamo sotto l'ombra dell'albero più grande che c'è qua 22 anni Mamma mia E cazzo tu frutta addirittura certe note che arrivano a un chilo magari Però è bellissimo Vai amore vai Sembra un corridoio nella giungla Io ti consiglio di stare Ma se ci andiamo andiamo No io sto qua Ciao ciao Eccovi Bravo Vedi che questi mango sono di un altro colore Sono violetti Violetti Perché questo è un'altra varietà Ci sono altre piante Aspetta però il nome è troppo difficile Giuseppe com'è la varietà? Tommy Atkins Tommy Atkins Giusto? Sì Vado a capire cosa ci vorrete Eccoci qua il momento dell'assaggio amore Guarda qua Katia ci sta tagliando il frutto principale Il mango freschissimo Mentre lei lo taglia Giuseppe Ci fa notare che ci sono qui al tavolo amore Che cosa Giuseppe? Qui ci sono tutti i nostri trasformati Questa è un ettare senza zucchero Sì Questa è una composta Sì E questo è l'ultimo arrivato È un amaro con frutti tropicali Ora assaggiamo tutte cose Guarda qua come l'ha tagliato perfetto A fiore Allora posso pegliare? Certo Assaggiamo? No io questo non lo devo mangiare tutto E ora Amore tu tanto non ti ho mangiato mai Mangi con i tuoi sogni Mi ne ho mangiato pure tutto Guardate ti faccio vedere Composta di mango Da questo mango 70% di frutta Picciotti Sui tecnici sai tutte Ma io fare l'assaggio Guarda qua Guarda che bella Buonissima La nostra Sicilia veramente ci offre il meglio E noi facciamo una cosa insolita Insolita Cioè fammi vedere Mettiamoci finger lime Ah la cosa pregiata Un cagliaro Visto com'è Visto come è particolare Perfetto Buon appetito Concludiamo con un bel cicchettino di amaro Ci sta Ci sta Per te che tu sei quella sempre a scena Te ne facciamo fare con il succo Grazie mille Allora un brindisi a voi Picciotti Ecco qua Giuseppe Grazie a voi Katia questo è per te Amore ora poi tu fai Perché per ora c'è la voglia Bravo perché c'è tutto il combo a sbagliare Ciao Picciotti Ciao grazie E sentite sempre i nostri consigli Un brindisi Ciao Picciotti Salute